La città è in apprezzione, anche se le notizie di oggi sono rassicuranti per i 9 militari feriti del nono reggimento alpini dell'Aquila, su 14 in totale coinvolti, di cui 4 abruzzesi. 3 sono rimasti feriti in modo più serio, ma non sono in pericolo di vita. È accaduto tutto nel tardo pomeriggio di ieri in Kosovo, dove i militari del contingente Kfor stanno operando da gennaio in una missione di pace, ma la notizia si è subito diffusa in città, dove il reggimento della brigata alpina taruinense è molto amato e apprezzato. Gli alpini hanno riportato fratture ostioni, perché colpiti da molotov e altri dispositivi incendiari. Uno è stato portato in ospedale in elicottero a scopi ieri sera, perché gli sarebbe esploso un molotov vicino alla caviglia, ma per fortuna le condizioni non sono serie. Il contingente Kfor con i militari italiani era intervenuto a Zekan per disperdere i dimostranti serbi che stavano manifestando dinanzi alla sede del municipio per protestare contro l'insediamento di nuovi sindaci di etnia albanese. Si registra intanto a tal proposito la posizione del presidente dell'Associazione Culturale dell'India, Duli Salini, che vive l'Aquila e che ha espresso a nome di tutta la comunità kosovara dell'Aquila la più profonda solidarietà agli alpini e al loro comandante. Una situazione difficilissima. Come presidente dell'Associazione Culturale dell'India, a nome di tutta la comunità kosovara all'Aquila e in tutta la regione, poniamo la nostra massima solidarietà agli alpini del nono reggimento dell'Aquila. Una vicenda molto difficile che va seguita a nostro avviso da tutti i leader mondiali. Seguiamo continuamente le vicende che si stanno svolgendo giù nel Kosovo. Creeremo anche un contatto con l'ambasciatrice, la quale è stata anche qui in visita all'Aquila, in modo tale da riuscire ad avere in continuo aggiornamento quelle che sono le situazioni sia delle vicende, ma soprattutto anche di quelli che sono i nostri alpini dell'Aquila. Sono missioni importanti perché sono missioni di pace e non è impossibile la pace? Non è impossibile ma è difficile. Ci serve una grande volontà politica, in questo caso parliamo di leader mondiali e europei, i quali stanno lavorando ma che debbono sicuramente ancora intensificare di più il loro impegno.